Facciamo un gioc. Se voi e la bocchia assompariù, indovine c'è molto cos'oi. A. Contente. B. Inrabbiade. C. Avilide. La risposta è giusta e era la lettera C. Se i miei voi e la me bocchia assompariù, cos'oi avilide. E se investiti i miei voi assomgranchi e tarons, se attor dai voi si formi in grandi sgrispis e se la bocchia va parsù, c'è mon misintio. A. O soi contente. B. O soi inrabbiade. C. O soi avilide. La risposta è giusta e era la lettera A. Se i miei voi assomgranchi e tarons, se attor dai voi si formi in grandi sgrispis e se la bocchia va parsù, allora o soi contente. Ve vi su induvinat? Braavs!